Bene, ritrovati anche questa settimana con le news dalla Camera di Commercio. Questa volta parliamo di banti di risorse che il sistema camerale mette a disposizione delle imprese. Il primo è quello relativo al tema del turismo e tecnologia, un aiuto alle PMI, un bando per alberghi, ristoranti e più in generale tutte quelle strutture varesine che operano nella ricettività turistica fornendo servizi e proponendo attività legate a sport, cultura e intrattenimento. La Camera di Commercio mette a disposizione complessivamente 150.000 euro per un supporto ai loro investimenti in comunicazione digitale, migliorando altresì la loro presenza sul web. Questo anche nell'ottica di favorire la partecipazione di queste strutture a ecosistema digitale turistico, la nuova piattaforma della filiera turistica regionale, dove le imprese possono inserire le proprie offerte alberghiere, pacchetti turistici proposte per visite guidate. Cambiamo argomento e parliamo di un altro bando, consulenza e formazione per l'impresa 4.0. Si tratta di contributi, sempre della Camera di Commercio di Varese, sino a 5.000 euro, per l'acquisizione da parte delle imprese di servizi di consulenza e formazione per l'introduzione nella loro attività delle tecnologie previste dal piano Industria 4.0 del Ministero. Le risorse a disposizione in questo caso sono pari a 170.000 euro. Vi ricordo soltanto che ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito della Camera di Commercio all'indirizzo web www.va.cam.com.it e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti!